In tanti mi stanno scrivendo, in tanti me lo stanno chiedendo, purtroppo sì è vero, mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito in casa una rapina mano armata. Una di quelle cose brutte che vorresti che non capitasse mai nella vita, che vedi solamente nei film e pensi che non possa succedere, invece capita. Fortunatamente, nonostante la follia della cosa stanno bene, cosa posso dire? Posso dire che sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro paese. Qualcuno dice, vabbè ma voi avete la villa, siete ricchi e per quello che entrano in casa vostra. Cazzata, cazzata, non è una condanna avere una villa, non è una condanna aver guadagnato i soldi onestamente e io mi devo sentire libero e sicuro nel paese dove vivo. In più, l'ho ripetuto altre migliaia di volte, è una vergogna che in un paese dove c'è la pressione fiscale superiore al 60%, noi non ci sentiamo sicuri. bravi Stato, bravissimi, siete bravissimi, complimenti, siete bravissimi al governo, la destra e la sinistra, incapaci di mantenere il controllo, incapaci di mantenere l'ordine in questo paese, perché siete degli incapaci. Non siete in grado di fare politica ma solo propaganda politica, perché l'unica cosa a cui voi interessa è il vostro culo. E allora chi può, chi può, come ho fatto io, va a abitare da un'altra parte. Perché i figli in questo paese, i miei figli in questo paese, per cui per tutti quelli che si domandano come mai siamo andati ad abitare in Svizzera, il motivo è questo. Io non voglio crescere i miei figli in un paese dove non possono essere liberi, dove non possono uscire di casa, dove ho paura di farli andare al parchetto, ho paura di farli giocare al campetto vicino a casa, ho paura di lasciare mia moglie a casa da sola, ho paura di lasciare i miei figli a casa con mia moglie. Non voglio più questo. Allucinante. Quindi per concludere, complimenti a voi incapaci, capre incapaci, che avete reso il paese più bello del mondo. Il paese più bello del mondo, e lo posso assicurare ho girato il mondo, e vi assicuro che questo è il paese più bello del mondo, un paese insicuro, un paese dove c'è da aver paura. Complimenti, capre ignorante. Ignorante. Anzi, le capre sono più intelligenti di voi. Le capre sono più intelligenti di voi. Voi siete incapaci. E quando andate a letto a dormire, voi incapaci che avete governato questo paese negli ultimi 30 anni, guardatevi lo specchio e fatevi schifo! Grazie a tutti.